Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, mi trovo oggi in laboratorio e ho pensato di portarvi questo video perché ve ne avevo un pochino parlato di tutta questa faccenda del laboratorio anche in un video recente che ho fatto uscire sul canale penso una settimanella fa e quindi eccomi qui. Vi spiego prima un attimino tutte quante delle cose e poi vi faccio veramente entrare nel merito di quello che dovremmo fare oggi, di quello che vi voglio mostrare oggi. Premessa, sto registrando con questo piccolo microfonino che vedete qui, che è abbastanza pessimo di conseguenza l'audio potrebbe fare abbastanza schifo, spero che così non sia ma nel caso faccia schifo vedrò di migliorarlo per magari per i prossimi video cercherò magari di acquistarmi un microfono più decente. Dunque, il mio progetto di laurea era questo qui, Mimas, il rover marziano che in questo momento vedete sul suo piedistallo con le ruote accattastate da dietro e il progetto nuovo che sto lavorando, che sarà il mio progetto di Master per il Master Bay Research, è sostanzialmente un robot quadrupede, quindi con quattro gambe che sarà in grado di camminare su terreni molto aspri quindi articolati con un sacco di rocce, terreni di diversa fattura e dovrà riuscire a cavarsela su qualsiasi tipo di terreni. Ora, sono in uno stage, diciamo, molto embrionale, sono proprio all'inizio e quindi adesso vi farò semplicemente vedere un po' di cosetta qui ho cominciato a lavorare e così vi rendo partecipi, ok? Magari mi saprete dare anche qualche consiglio. Dunque, non ho ancora bene in testa quello che sarà tutta quanta l'evoluzione del progetto naturalmente, c'è tutta la telecamera che trema spero non sia troppo un problema, non vi venga il mal di mare non ho bene in testa quello che sarà tutto quanto il progetto quindi sto cominciando a fare appunto un po' di ricerche facciamo una cosa, guarda, vi appoggio tipo qua così almeno magari non vi sentite male mentre io parlo molto meglio, no? Cioè, potevo iniziare il video in questo modo la prossima volta inizierò in questo modo dicevo, ho iniziato quindi per l'appunto con una gambetta molto semplice vi lascerò tipo il video qui e probabilmente questo video l'avrete già visto se avete visto il precedente video che era tipo un vlog appunto in cui vi aggiornavo di tutte quante cose questo è come ero messo sostanzialmente sabato oggi è lunedì per me è lunedì 22, 21, 22, non mi ricordo oggi è lunedì 22, perfetto quindi lunedì 22 sono in questa situazione qua sabato ero nella situazione che vi ho fatto vedere nel video se lo rimetto qua per reference come potete vedere usavo un solo motore per ottenere questo movimento diciamo laterale della gambetta tra l'altro molto rigido potremmo dire però insomma è un inizio, no? e questo coso l'ho acquittato in una mezz'ora un'ora, ish vi faccio vedere una cosa voi adesso non mi vedrete ma mi sentite che è molto weird perché il microfono fa attaccato la vedete questa? questa cosa qui che è tipo falling apart si sta distruggendo questa cosa qui, vedete? è il principio su cui si basa il robottino su cui voglio lavorare ora immaginate che qui ci sia una sorta di zampetta che viene giù in questo modo tipo quella che utilizzano gli atleti tipo per le paralimpiadi per intenderci tipo quelle che magari non hanno le gambe e quindi hanno questi cosi sotto molto fighi vi metterò tipo un'immagine tipo qui no? ok questo è per intenderci quindi no? il principio è questo cosa qua in modo che io possa saltare utilizzando questo sotto una gambetta quindi abbiamo visto sostanzialmente qual è il design di riferimento e come ero messo fino a sabato domenica invece che cosa ho fatto? ho realizzato questa cosa qua che adesso vi metterò tipo qui ancora e come potete vedere è sostanzialmente una versione improved ok? abbiamo un controllo più sofisticato con due motori un design leggermente diverso e come potete vedere piotta cioè corre abbastanza ed è molto fico ma qual è il problema di questo design? il problema di questo design è che innanzitutto i movimenti sono rigidi il secondo problema è che piotta fortissimo cioè corre fortissimo ok? non va bene deve andare in maniera molto più fluida il modo migliore per farlo è utilizzare dei motor driver specifici per il servo cosa sono i motor driver? perché non lo sapesse ora un motor servo ve ne prendo uno ok? un motor servo è fatto in questo modo ok? quindi abbiamo sostanzialmente magari anche guardo in camera ogni tanto il motor servo è fatto in questo modo abbiamo tre cavi positivo, negativo e data diciamo e lui riceve sostanzialmente un impulso a una certa frequenza e ruota in quella direzione che noi stiamo dicendo fichissimo normalmente questo lo colleghi direttamente al Raspberry o all'Arduino di turno o magari anche una power supply esterna però di mezzo ok? si può mettere un motor driver cioè un coso che sostanzialmente aiuta a controllarlo magari aggiungendo delle feature come per l'appunto il controllo della velocità ma io sono così intelligente? no che non lo sono in realtà sì cioè nel senso ovviamente andrò a utilizzare dei motor driver specifici per servo motor controller motor driver come volete chiamarli il fatto è che al momento non ne ho e quindi sono un pochino messo in questa situazione in cui voglio sperimentare vedere se si riesce a achieve qualcosa del genere semplicemente utilizzando il codice ora il discorso qual è? il motor driver per quanto non pesi nulla è un peso aggiuntivo è un aggeggio aggiuntivo che è inserito all'interno del robot e noi vogliamo tenerlo più compatto possibile più semplice possibile anche a livello di wiring motivo per cui penso che comunque lavorare a livello di codice possa essere interessante ora rimetto via questo coso perché se no i professori mi uccidono no in realtà no però insomma non è mio quel cosino detto questo vi faccio vedere la situazione adesso sostanzialmente la situazione di adesso è questa no 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 perché sto facendo così ce l'ho qua è un robottino da farvi vedere no pazzesco questo è il bello della diretta ok giuro che per il prossimo video cercherò di essere un pochino più professionale ma per questo dovremo un po' accontentarci vi faccio vedere questo coso che si muove va bene noterete che farà una cosa specifica cioè salirà molto lentamente poi scenderà molto lentamente quindi cioè oddio no in realtà sale basta lentamente poi per scendere scende rapidamente però per capirci allora diamogli il via quindi vedete va in posizione sale lentamente scende abbastanza lentamente ok quindi avevo cambiato il codice non mi ricordavo più fa nulla riproviamoci quindi va in posizione vedete ok poi sale lentamente scende lentamente un po' desincronizzato ma fa niente ci arriveremo ora questa cosa qui è a shield è ottenuta tramite multithreading per riuscire a fare andare due processi insieme che cos'è multithreading? normalmente i computer fanno un'operazione alla volta anche se a voi non sembra di base a livello di codice sì quindi per semplificarla in un codice che cosa si fa? si utilizzano i threads quindi tipo come se fossero due funzioni che corrono ce la faccio rimetterlo qui rapidamente sì ok dicevo quindi abbiamo due processi che corrono contemporaneamente i due thread per l'appunto il primo fa andare il motore in questa direzione il secondo fa andare un altro motore in quest'altra direzione devono essere ben sincronizzati a livello di velocità uno rispetto all'altro anche in base all'angolo che devono raggiungere per regolare la velocità utilizzato sostanzialmente un conteggio degli step che deve fare il motore ovvero mi spiego facciamo finta che io so che il motore servo se gli dico da questa posizione qui vai a questa posizione qui lui ci arriva all'istante ok che cosa succede se gli dico per arrivare a quella posizione lì parti da qui poi fai un passettino poi fai un altro passettino e procedi in questo modo fino ad arrivare fino a qua se io tra un passettino e l'altro metto un delay di tempo quindi diciamo facciamo finta 0.1 secondi vuol dire che faccio tipo 1,2,3,4,5,6 magari questa cosa qua l'ho fatta in un secondo quindi faccio 6 step in un secondo se io invece però per esempio gli metto un delay di un secondo intero però 1,2,3,4,5,6 insomma quindi ogni secondo faccio uno step quindi per arrivare in fondo ci ho messo 6 secondi per fare 6 step 6 secondi quindi è molto semplice questa è l'idea che sta alla base del movimento fluido diciamo per fargli fare quel movimento arrivare a un certo angolo gli faccio fare una serie di step e decido quant'è il delay tra uno step e l'altro di conseguenza va in maniera fluida ovvio che se gli step che gli faccio fare sono fatti troppo lentamente va comunque a scatti vi metto qui per reference tipo qui un video che ho fatto prima in cui si vede sostanzialmente il motore che accelera sempre di più in quel caso stavo controllando un motore solo quello alla vostra sinistra credo voi direte tutto questo è molto fico dove vuoi arrivare cioè qual è il punto il punto è che al momento io ho una gambetta che si muove in quel modo l'idea sarebbe poi quella di aggiungere un altro movimento che vi faccio vedere prendo sempre come reference questo coso qua bianco cioè non solo fa un movimento di questo tipo ma è in grado vediamolo di lato anche di fare questo movimento qui in modo che io potenzialmente posso fare tipo la camminata si è staccato l'elastico la camminata ma anche spostare la gamba in questo modo come facciamo noi con la gamba cioè possiamo alzarla in questo modo ma posso anche spostarla di lato no ci arriverò ci arriverò dovremo fare all'inizio una gamba poi due gambe poi saltiamo la terza facendo direttamente quattro gambe anche perché un coso con tre gambe non è che abbia molto senso detto questo io ho già chiacchierato abbastanza e ho saturato completamente la memoria del computer del telefono e ho finito la batteria del cellulare quindi ci vediamo presto ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto magari non avete capito niente però nel caso scrivetemi nei commenti cos'è che non avete capito cerco di spiegarvelo in parole semplici in modo che possiate capirlo tutto quanti tutti quanti dai ci vediamo presto ragazzi fate i bravi e niente io me ne vado ciao 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 Grazie a tutti.